Giornata storica per la Teramo Ambiente, la municipalizzata che gestisce lo smaltimento dei rifiuti urbani del comune di Teramo e che da società mista passerà ad essere completamente pubblica. Attraverso il voto del Consiglio Comunale, la Team diventerà una in-house senza soci privati. Un'operazione fortemente voluta dal sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che vede attraverso questa trasformazione la strada giusta per far pagare ai teramani sempre meno tasse sui rifiuti. Perché è così importante che la Team diventi pubblica? Ma è una scelta intanto che è finalizzata a ripristinare la legittimità. Dopo dieci anni per scelte politiche sbagliate che hanno lasciato questa società in una situazione di precarietà e illegittimità, che hanno pagato i cittadini terramani in termini di costi, soprattutto per quanto riguarda la gestione della tariffa. Dare continuità a un'azienda e dare soprattutto prospettiva. Noi vogliamo mettere in regola questa società e la strada che abbiamo scelto e che è pienamente in linea con quella che è la normativa regionale, poi società in house o non in house, dipende da come la gestisce e da quelli sono gli indirizzi che dai. Stiamo vedendo quello che sta succedendo nell'altra in house, quella dell'acqua, per come viene gestita. Da quando ci siamo noi la società è stata gestita in modo perfetto, adeguato, con la riduzione dei costi di gestione, con l'abbattimento dei costi della tariffa, con il ripristino di trasparenza e chiarezza. È un'operazione di legittimità, è un'operazione di prospettiva per una società che ha delle potenzialità straordinarie e che evidentemente è stata gestita da coloro che oggi contestano questa operazione, perché evidentemente per loro è una sconfitta, è stata gestita al servizio della politica e dei politici e non dei cittadini. Non mancano però le polemiche sulla trasformazione della TEM in società pubblica. La minoranza di centrodestra e Italia Viva si oppongono e contestano i costi dell'operazione, troppo gravosi secondo loro per il Comune, e minacciano denunce penali. Noi vogliamo che la TEM sia acquistata con i dovuti criteri, non che il sindaco ci parla di un acquisto di 1 milione e 4, perché è mascherato, in realtà è un acquisto di 2 milioni e 4 più le tasse di oltre 400 mila euro che andremo a pagare nel, non voglio usare termini complicati, nel togliere alcuni fondi messi a riserva e rimessi in bilancio. Lei non l'avrebbe acquistata? Io l'avrei acquistata quando c'era la possibilità di acquistarla, e cioè quando, come gli ha suggerito anche il professor Cerulli, di acquistarla durante la curatela, quando la base d'asta partiva da 1 milione e 2 con i cespiti di Reggio Calabria, quindi presumibilmente il valore della TEM era sui 950 mila euro. Intanto, su sollecitazione del Comune di Teramo, è partita la campagna trasparenza sul sito web della TEM. Da oggi, i cittadini teramani potranno sapere in anticipo quanto pagheranno di Tari, ed ogni sera, grazie ad un'app, saranno avvisati sul rifiuto da conferire.